ciao a tutti ragazzi qui è matteo per lo staff di ultimate infifitalia siamo qui oggi con un nuovo video con una tipologia di video piuttosto particolare per noi per me è assolutamente la prima volta spero che vi possa piacere siamo qui con quello che è il torneo un pochino più atteso di questo periodo dell'anno che solitamente non è condito dalla presenza di carte speciali come magari è successo qualche mese fa con i toti succederà tra qualche mese con il team of the season siamo qui con il torneo di san patrizio sapete benissimo che tipo di torneo è ha dei requisiti particolari come potete vedere dalla rosa che adesso pian piano vi svelerò c'è bisogno della presenza di una rosa quindi 11 giocatori titolari più 7 riserve tutte proveniente provenienti scusate dal irlanda che sia irlanda repubblica d'irlanda o irlanda del nord io e noi come ultimate in fifitalia c'è lo squad builder nella descrizione e se l'avete visto è uscito ieri abbiamo scelto ma come la maggioranza degli utenti e dei giocatori di utilizzare giocatori provenienti dall'irlanda diciamo tricolore perché probabilmente il tasso tecnico è un pochino più alto l'unico giocatore interessante all'irlanda del nord è evans che però io ho deciso di sostituire con con l'argento che vedete centrale di sinistra con kyok che poi vedrete da qualche clipping game è abbastanza interessante lì davanti c'è la versione second inform di long che sorprenderà davvero ma cominciamo subito con la prima partita subito con uno scambio stretto per gibson che appunto coadiuvato da long si trova tu per tu con il portiere e scrive scrive a referto il suo gol il primo gol il nostro gol in questo torneo 1 a 0 qui il portiere esce io lo buggero diciamo con un tiro di prima che si va ad infilare nel primo palo subito seconda clip huolan largo a destra per gibson che ragazzi è un giocatore molto sorprendente ancora huolan dentro per long bella palla per meghidi che può involarsi al giocatore più tecnico lo sapete bene 5 stelle skills anzi se quest'anno è stato un pochino dangredato guardate qui rabbona arriva long mezza rovesciata alla palla è fuori due parole sul sif di long mentre vedete qui il mio avversario che che attacca io non consiglio di comprare di comprarlo perché credo che questo torneo viste le difese che si affronteranno si può vincere anche con una versione if o nif che costano comunque naturalmente molto di meno qui il intanto il mio avversario va a assegnare da calcio d'angolo è un po uno dei i miei talloni da kill west food che è un ottimo portiere non ci arriva e uno a uno ma ancora meghidi sull'auto di destra le solite finte può metterla dentro lo fa palla sul secondo palo per long che di testa spara addosso a sempre west food ma quello del mio avversario attenzione però che la partita volge al termine settantatresimo calcio d'angolo sbuca il nostro difensore centrale sbuca clark e andiamo sul 2 a 1 a pochi minuti della fine grandissimo stacco grande palla sul primo palo di clark e gol del 2 a 1 guardate qui scambio stretto palla dentro per white che però è in fuori gioco peccato perché era uscito fuori una buona azione ancora gibson largo a sinistra ribattuto dal difensore holland sbaglia gibson non mi presente scambia con meccarti ancora per ancora meccarti ancora dentro per shane long che ho detto non vi consiglio il sif però devo dire che è oggettivamente un buon giocatore qui sotto le gambe del portiere avversario 3 a 1 e passaggio al secondo turno che che è quindi ipotecato un po di fortuna corre in pallo il tocco con la suola toccato appena appena il tasto del tiro e palla sotto le gambe del povero del povero portiere avversario questo è il risultato finale della prima partita vedete qui lo screenshot della vittoria 3 a 1 e si avanza alla seconda partita soliti scambi a centrocampo gibson va a recuperare palloni ragazzi gibson ripeto per l'ennesima volta grandissimo giocatore hulan dentro per long che col destro buca letteralmente il portiere avversario la palla bacia la traversa e si e si infila in rete guardate qui ottima palla del del giocatore del norwich per long che che realizza il suo gol qui punizione un po sconclusionata del mio avversario mcghidi può portare avanti il pallone largo verso white che ha una buona velocità mi ha anticipato di lei ne è ancora allora per white può andare uno contro uno col difensore lo supera col destro fuori gol mangiato ragazzi incredibile qui purtroppo c'è un problema come vedete la partita è finita 4 a 0 io ho avuto una pesante discussione col tasto share quindi purtroppo non vi ho potuto portare il secondo tempo ma se tornate indietro vedete lo storico vedete i crediti e soprattutto vedete che il logo in questo screenshot è lo stesso della partita quindi diciamo non c'è trucco non c'è inganno c'è solo stato un problema col tasto share anglora terza partita palla sempre dentro per shane long che a tu per tu con il portiere segna questa volta sul primo palo voglio fare una precisazione molti pensano che se andate a vedere le statistiche shane long non abbia un buon tiro di precisione io personalmente ho sempre fatto gol di precisione quindi mi sembra che la statistica sia non so se di poco superiore al 60 ma non posso assolutamente dire nulla all'irlandese scambi a metà campo long dietro per gibson palla bene dentro per hulan che attenzione guardate qui che fa slalom gigante 1 2 avversari 3 avversari finta di corpo e palla col sinistro nell'angolo alto dopo 17 minuti conduciamo già per 2 a 0 ancora rivediamo qui non so se questa era una finta di corpo un'indecisione però comunque è il risultato quello che conta e 2 a 0 per noi c'è anche il mio avversario in campo che però qui perde palla mccarty long scambia con white l'avversario libera male allora clark un po di batti ribatti ancora hulan che qui mi ha giocato una partita devastante ammetto che l'avversario difensivamente non era il massimo palla dentro per shane long sempre pronto a ribadire in rete per il 3 a 0 dopo soli 40 minuti di gioco anche hulan giocatore consigliato però devo dire sincerità credo anche che il suo rendimento dipenda dalla pochezza delle difese avversarie perché probabilmente è un giocatore che contro le squadre che si incontrano di solito non può fare la differenza come la fa contro le difese irlandesi qui mcgidi con le sue solite finte palla dietro per gibson mccarty ancora mcgidi long mccarty palo gol annullato qui ho fatto un'azione bellissima ve l'ho voluta far vedere però purtroppo un inserimento fatto con un tempo di gioco di ritardo e quindi niente da fare gibson dentro lo scavetto per long che non riesce col controllo il mio avversario perde palla vi ripeto non granché onestamente long finta e controfinta e sinistro ancora di precisione ancora sul primo palo all'angolo destro 4 a 0 caliamo il poker in questa semifinale e ci apprestiamo a disputare la finale di questo torneo di san patrizio ma non è finita 4 a 0 e continuiamo ad attaccare hulan mccarty dentro per gibson dentro per cunningham finta con la suola palla sui piedi del difensore che sbaglia l'ennesimo rinvio e ancora lui shale long il killer in questa partita il vero e proprio killer terzo gol ancora una volta di precisione a sottolineare quanto vi ho detto prima cioè la sua statistica nel finesse shot è molto bassa però in game non mi posso assolutamente lamentare qui addirittura la palla che tocca il palo e poi viene depositata alle spalle del portiere di nuovo lo screenshot siamo pronti per la finale come direbbe qualcuno andiamo a dublino beppe sul 5 a 0 eccoci qui nella partita finale di questo torneo gibson palla dentro per long per mcgidi 1 contro 1 col portiere tiro parata un po di fortuna e gol dell'1 a 0 dopo 10 minuti quindi bene cominciamo bene tutte le partite qui molto sfortunato il mio avversario devo essere sincero però c'è anche questo nel calcio soprattutto c'è anche questo su fifa e 1 a 0 della punta di diamante dopo shane long item mcgidi questa è stata una partita difficile devo dire la verità vedete qui il mio avversario che attacca con long che resiste fa una ottima finta forse qui perde un tempo di gioco poi però trova il tiro ma westwood ottima parata per lui siamo ancora noi con la palla hulan imbeccato da clark palla dentro per shale long grande palla col contagiri e ancora uno contro uno ragazzi non ha sbagliato davvero mai shale long per il 2 a 0 su un ottimo passaggio qui pensavo onestamente di perderla di perderla scusate perché non è una cosa che mi viene bene spesso però devo dire la verità con grande piacere hulan ha messo la palla col contagiri sui piedi di long che ha segnato il 2 a 0 qui libero io malissimo con coleman nella mezza rovesciata del mio avversario che è sfortunatissimo ma che vi preannuncio troverà il gol e ci metterà molto molto in difficoltà mccarty palla dentro per long buona finta con la suola supera un avversario con il no touch dribbling e qui insultatemi nei commenti per cortesia evito evito di dire quello che è successo poi dall'altro mi mangio anche il gol però ogni tanto faccio queste cose e avrei potuto pagare la cara perché vediamo cosa succede shale long tunnel addirittura doppio tunnel e 2 a 1 qui se avessi potuto infilarmi un coltello in ora l'avrei fatto perché cinque minuti dalla fine di questa finale e c'è il gol di shale long io ho trovato il gol del 3 a 1 che onestamente devo essermi perso nella clip ma questo in che conta poco guardate cosa succede shale long la palla dentro lo stop la mezza rovesciata e 4 a 1 un gol magnifico magnifico ragazzi magnifico incredibile white un giocatore argento che non consiglierei neanche al mio peggior nemico 4 a 1 per noi ottimo ottimo gesto tecnico ottimo sinistro e qui vedete l'esultanza della squadra che ha ha trionfato quindi abbiamo scritto il nome di altimetti in fedalia su questo torneo di san patrizio io concludo dicendovi giocatogli il prima possibile poi tenete d'occhio il mercato guardate i prezzi dei giocatori io naturalmente terrò d'occhio soprattutto quello di long sif cercherò di rivenderlo perdendo il meno possibile più andate avanti più i prezzi dei giocatori scenderanno io ragazzi vi ringrazio spero che questa che questo video vi sia piaciuto che questo viaggio all'interno del torneo di san patrizio vi sia piaciuto vi rimando come al solito al nostro sito ufficiale ottifetalia.com e soprattutto per chi ha dispositivi android ragazzi mi raccomando scaricate la nostra app che potete trovare direttamente sul play store purtroppo non non riusciamo a sviluppare ancora quella ios ma è sicuramente un progetto che abbiamo in cantiere grazie a tutti i ragazzi al prossimo video